A Tutoriality! L'isola più forza che ci sia! Sono in 22, ma ne resterà solo uno! Sfide impossibili per il divertimento di Chris! A Tutoriality! Quanto c'è un problema, distante siamo lì! Quanta era di chi ci fermerà! Valide e potenti, come dei giganti, mangi la metà! Grazie a tutti!